Ciao ragazzi, oggi hanno preso il via gli esami di maturità e quindi innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi e poi un auspicio. Questa rappresenta una tappa fondamentale nella vostra vita, lo è stata anche per me ai tempi del mio esame di maturità e quindi che possiate vivere questa prova con grande intensità, senza alcuna preoccupazione, ma consapevoli che questa prova vi metterà sulla rampa di lancio per spiccare il volo nei prossimi anni. Sono sicuro che ce la farete, io ho grande fiducia di voi e ripongo grandi speranze in ognuno di voi. Forza!